Ripristino della legalità, rispetto delle persone oneste, garantire la qualità e la dignità della vita delle persone che vivono nelle case popolari, evitando che divengano, come troppo spesso accade, il rifugio di bande di delinquenti e di criminali. Il Consiglio regionale d'Abruzzo, nella seduta di ieri, ha approvato il progetto di legge per l'assegnazione e la gestione delle case popolari. Il provvedimento, secondo la maggioranza di centrodestra, introduce maggiore equità e controlli più efficaci rispetto ai requisiti per essere assegnatari degli alloggi. Con questo tipo di legge ci saranno dei controlli più severi, più stringenti, anche con protocolli d'intesa con forze dell'ordine. Ci saranno sicuramente dei criteri attraverso i quali noi avremo certezza che chi sta all'interno delle case popolari merita di stare all'interno delle case popolari, merita l'attenzione e il sostegno delle istituzioni e dello Stato italiano. Anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, plaude all'approvazione della legge, parlando di una vittoria della regione a guida Marsilio e sottolineando lo stop alle discriminazioni verso gli italiani a vantaggio degli stranieri, oltre al giro di vite legalitario. Questa è una legge che non solo segna un passo in avanti per quanto riguarda l'assegnazione delle case popolari e la legalità che deve fungere da Stella Polare in merito a questa assegnazione, ma alziamo anche il livello di controllo, di salvaguarda dei diritti e di dare precedenza agli onesti e più deboli. Sulla stessa lunghezza d'onda gli alleati della Lega, secondo cui il lavoro di emendamento fatto dai consiglieri Dincecco e Marco Vecchio sulla disciplina delle attestazioni di proprietà garantisce maggiori certezze nel controllo dei requisiti. Se la maggioranza esulta l'opposizione PD 5 Stelle è critica nei confronti di questa nuova legge sulle case popolari. Antonio Blasioli, Partito Democratico, attacca il centrodestra parlando di una legge propaganda. Una legge che va incontro al securitarismo ma che non garantisce alcuna sicurezza all'interno delle case popolari ed anzi creerà problemi alle famiglie con molte norme che riguardano l'accesso alla casa popolare e la decadenza di quell'articolo 34. Per esempio anche un familiare che dovesse commettere un reato, come per esempio la vendita di una bandiera, della bandiera italiana, addirittura tutta la famiglia perderebbe la casa. Da parte del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari sottolinea l'inefficacia e l'inapplicabilità delle norme volute dal centrodestra. Qui non è codificata in questa norma la possibilità di trasmettere informazioni ai sindaci. Quindi i sindaci non potranno mai sapere la qualifica, certo, delle persone che sono gli assegnatari o i non assegnatari o coloro che occupano abusivamente o coloro che commettono reati. I sindaci non avranno mai la possibilità di avere queste informazioni. Grazie. 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 Grazie.